Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Benvenuti in un nuovo video All Primark Adoro! Allora, calcolate che in tutto da farvi vedere ho ancora 1, 2, 3, 4, 3, 7 sacchetti proprio, una meraviglia comunque non ve li metto tutti di seguito, questi video ve li spezzono, cioè ve li suddivido, adesso comunque senza perdereci in chiacchiere, perché sennò viene un video interminabile, passo a farvi vedere queste due buste strapiene di shopping di Primark proprio passo a caso questo è uno dei tanti scontrini di Primark ma non non so nemmeno qual è giusto perché comunque sono tutte sparpagliate le cose proprio ve le prendo a caso allora, shopping con i saldi e alcune cose invece ho preso a prezzo pieno allora, ho preso questo pigiama che è carino con questa scatolina bellissima di Lily e il vagabondo io di pigiami, come sapete io vivo in pigiama sto sempre in pigiama e quindi ovviamente devo avere più pigiami che vestiti e quindi praticamente ho preso questo qua che non avevo e poi mi piace tantissimo adesso avete visto la scena dove loro mangiano gli spaghetti con la polpetta e si baciano è proprio, è super romantico questo qua costava 15 euro e l'ho pagato solamente 6 euro cosa faccio? Lo lascio là? lo lascio là? no, non potevo lasciarlo là assolutamente e quindi ho preso questo pigiama non sto aprirlo perché metto troppo tempo però me lo vedete indossato in qualche live sicuramente poi questa è una pucciosità assoluta veramente troppo troppo bello allora questo qui un set costava 9 euro e l'ho pagato 4 c'è praticamente niente c'è la spazzola questa spazzola così e la fascia unicorno come potete vedere c'è come le altre che ho io con questo manico unicorno questa è una spazzola forchetta questa è una spazzola forchetta? si si chiama così? si ah non lo sapevo e la fascia unicorno non vedo ora di usarla nei vari get ready che vi farò perché li farò allora la scatola ovviamente tutta olografica qui unicorno e che conservo perchè ci mettono dentro qualcosa anzi ho tolto già i prezzi e tutto perchè troppo c'è guardate che bella pure la plastica davanti è olografica bellissima e vi voglio far vedere la spazzola che è questo lillino delicato tipo madre perla è bellissimo veramente è anche olografico non so quanto si riuscirà a percepire no vabbè io adoro queste spazzole sono veramente queste spazzole queste spazzole sono top veramente sto a fare un attimo che poi non ti disturbo poi c'è questa e infine c'è questa questo lo butto perchè non mi serve più c'è questa fascia che voglio metterla subito voglio vedere un attimo unicorno con le orecchiette adoro questa la userò per quando farò i getteriti poi ho preso questa felpa di Harry Potter guardate bellissima bianca con tutti sfondo bianco con il logo degli occhialini e il la cicatrice a fulmine che è in fronte a Harry Potter da 12 euro l'ho pagata 5 è una sciocchezza dentro è felpata e non vedo l'ora di di metterla è bellissima poi questo proprio una cosa un regalo praticamente queste le sciarpe adesso vi faccio la app ve la faccio vedere sono le sciarpe ad anello allora questa qua costava originalmente 2 euro e 50 già niente anche originalmente pagata 1,50 coi saldi sono quelle che si mettono appunto ad anello così e si fanno due giri è molto molto carina mi piace proprio è bella comoda pratica e confortevole è questo rosa chiaro non so perché lì sembrava più chiaro però è appena appena un tono in più di rosa ma molto molto bello veramente e mi piace tantissimo poi sempre scaldacollo e sempre rosa è questo ecco adesso vedete che qua è un po' più scuro questo è un rosa veramente tenue tenue siccome avevo già preso quello la color ho preso l'altro color beige e mi sono trovata bene questo scaldacollo qua che è bellissimo quello l'avevo preso quando era ancora a prezzo pieno perché non c'erano i saldi questo qua da 8 io l'ho pagato 4 dentro è super caldo così e mi piace veramente tantissimo questo qui è uno scaldacollo se vi faccio vedere indossato ne sta molto molto caldo veramente è bello questo è super bello questo veramente ti dà proprio un senso di caldissimo bello bello veramente proprio mi piace tantissimo poi 4 euro veramente non potevo non prenderlo poi ho preso questa sciarpa così tipo grande quelle a scialle tipo con questa fantasia tipo piede pull con bianco nero e questo punto di senape questa qui l'ho presa per mia mamma perché a lei piacciono tanto queste sciarpe così questa qui l'ho pagata anche questa era in saldo a su qua non c'è più il prezzo vedete non c'è più il prezzo perché l'ho tolto e quindi si per fargli il regalo non c'è più e quindi però l'ho fatta molto bene grande e questa qua quando vado a mia mamma gliela porto perché a lei questa fantasia la adora quindi metto lì poi ho preso questa spazzola no ditemi che cosa non è questa spazzola tanto io mi pettino allora racchiude cose che mi piacciono le strisce di victoria secret la corona perché sono la queen e c'è scritto don't touch my crown non toccare la mia corona e adoro veramente questa qua l'ho pagata 3 euro no non l'ho pagata 3 euro adesso mi sono accorta costava 3 euro e l'ho pagata solo 1 euro e 50 cioè ne ti vi conto niente praticamente praticamente niente e queste spazzole pettinano che è una mera villa adoro 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 veramente poi con questo sacchetto ultima cosa questo sacchetto abbiamo finito ho preso sempre in saldo invece che 7 euro l'ho pagato 4 euro ho preso questo cardigan un po' elegantino fatto così color bordeaux borgogna vinaccia prugna non so come volete ha le maniche che sono carinissime tipo uno spacchetto questi tre bottoni scollo a V bottoni e ovviamente anche da questa parte ha questa particolarità molto molto carino grazioso e anche adesso che comunque anche adesso che comunque ho i capelli neri trovo che ci stia bene sta bene un po' con tutti i colori questo e mi piace tanto dietro è liscio ovviamente questo è da lavare e da stirare perché è tutto stropicciatino ora passiamo a questo spacchetto meraviglioso allora questo qui l'ho preso a prezzo pieno perché non era in saldo ed è in set movie night in set praticamente per i film di pushy guardate che bello c'è questo qua che è per i popcorn o le patatine ma non è una plastica questa è proprio plastica dura e questo qui l'ho pagato sette euro non è scontato però sette euro non è tanto e c'è appunto la non si riesco a aprirla c'è questo questo bicchierone con la tazza guardate proprio il termos è adorabile con la sua canuccia è veramente bellissimo qua c'è pushing che ha qua c'è la gattina pushing che ha la bacchetta e magico il corno ha la bacchetta magica e mano l'unicorno è molto molto pucciosa di qua è identica è rosa adoro poi è gigantesca e appunto c'è anche questo che è fatto tipo apposta per i popcorn le cose è molto molto carino e mi è piaciuto tantissimo questo appunto è plastica dura racecurate la fantasia è bellissimo non potevo non prenderlo troppo bello veramente e questo è anche ottimo come diciamo idea regalo poi ho preso questo set cioè due tazze dei sette nani che costavano 7 euro e l'ho pagato solamente 3 euro abbiamo brontolo e penso che questo sia gongolo non lo so dunque non le so aprire perché ho paura che si rompano e comunque sono molto belle sono carinissime queste qua le sette nani queste qua le comprate anche il tarallo daniele blues se siete iscritti sul canale iscrivetevi blues channel perché sono veramente belle belle veramente le sette poi ho preso a 3 euro invece che 6 questa luce da attaccare la cellulare per fare i selfie a forma tonda con le orecchie da gattino infatti qua potete vedere questa è l'istruzione fa 3 tipi di luci e perché lasciarlo là cioè 3 euro poi niente poi per 1 euro e 50 al posto di 2 50 ho preso questo set micchi e minni è un bloc notice praticamente qua c'è minni qua c'è c'è micchi e in più c'è la la matita cioè 1 euro e 50 è veramente pochissimo dietro è fatto così e da tenere sulla tivania molto molto puccioso poi questa è veramente pucciosissima questo qui è un power bank da 10 euro l'ho pagato 7 è il power bank cacchina rainbow multicolor è bellissima veramente non potevo non prenderla non ho resistito e l'ho presa cioè che bella questa questa cacchina da power bank adoro veramente la adoro poi anche la confezione dietro c'è questa tutti i brillantini oro c'è questo rainbow con i cuoricini no vabbè primark veramente c'è troppe cose ha troppe cose pucciose veramente ho preso questo cardigan color rosa salmone è più rosa che salmone e in più dentro ha un filo brillantinato è cucito con questo filo brillantinato che non capirete mai è molto bello questo qua non so esattamente come si chiama questa lavorazione a maglia è morbidissimo veramente mi piace mi piace tantissimo è appunto è lungo uguale sia davanti che dietro è un cardigan non ha tasche però è bellissimo veramente l'ho preso ho preso la taglia L perché comunque è un oversize e questo qui l'ho pagato al posto di 16 9 euro è bellissimo guardate veramente questo pendolo adoro poi per finire e con questo stacchetto siamo a posto ho preso questo maglione qua che praticamente è identico a quello rosa si si è identico a quello rosa che ho preso e questo qua l'ho preso viola appunto mi piace tantissimo l'ho pagato 5 euro invece che 12 niente è fatto così le maniche sono fatte in questo modo qui sul fianco segue la trama della manica come potete vedere fino a giù ha gli spacchetti laterali e qui è fatto così un po' più lungo dietro è identico a quello rosa che vi ho mostrato in qualche video precedente di primark è molto bello davvero mi piace è un viola scuro e mi piace molto bene io spero che vi sia piaciuto che vi abbia dato qualche spunto per i vostri acquisti pucciosi e in saldo da primark vi mando un bacione ancora altri video però tranquilli ve li carico a giorni alternati e grazie a tutti i nuovi iscritti iscritteli sempre io vi mando un bacione mi raccomando mettete mi piace se non siete iscritti iscritti vi sono venuto bene a casa iscritti anche al canale di coppia davide chiara channel e al canale chiara alessandro asmr e noi ci vediamo al prossimo video ciao